La funzione logaritmo Andiamo Va bene Apri Oggi voglio innanzitutto dire altre cose sui logaritmo Facciamo anche il grafico della funzione logaritmo Se Vi ricordate Se io Il logaritmo In base a Di X Alla M Questo vuole M Logaritmo in base a Di X Poi In base a Di per c Di Questo è il logaritmo in base a Di P Più In base a Questa è la traduzione per i logaritmi di quelle due proprietà che abbiamo visto ieri per il Normalmente Normalmente Sia la base Che l'esponente E Questi numeri si prendono così Questo perché il logaritmo di un numero negativo Non si può Che non si può fare Che qualunque Teoricamente Qualche potenza esponente intero può venire Negativa Quindi Teoricamente Io Potrei dire che Che Il logaritmo in base In base alla definizione che abbiamo dato ieri Di meno 8 In base a meno 2 E 3 Che meno 2 alla 3 fa meno 8 Però avrei un piccolissimo problema Appena voglio elevare Che meno 2 alla 3,5 Elevare alla 3,5 Dovrei Prima che elevarlo Alla 7 Mi viene un numero negativo Poi fare la radice quadrata Quando vado a fare la radice quadrata non si può Quindi Diciamo Il logaritmo Diciamo Quando andiamo a definire il logaritmo in base a Di P Presupponiamo sempre che a sia maggiore di 0 Di P Sia pure ovviamente maggiore di 0 Bene Detto questo Andiamo a vedere che cosa succede se io cambio base Cioè Che relazione c'è tra il logaritmo In una certa base a di B E il logaritmo In una certa base a di C Allora questo Per fissare le idee chiamiamolo per un attimo x E questo chiamiamolo x E questo chiamiamolo y Ok Ok Sono Ben definiti Cioè Sicuramente Sicuramente esiste una potenza Potenza alla quale elevare a che mi da b E poi esiste una potenza alla quale elevare a che mi da c Qui io voglio sapere che relazione c'è tra x Da questo x Da questa potenza x Questo esponente x e questo esponente x Va bene? Ok Ok Allora E questo lo chiamiamo E questo lo chiamiamo Ok Adesso eleviamo da queste Prendiamo questa uguaglianza E eleviamo tutti e due i membri a la t A sinistra A sinistra Otteniamo a alla tx Perché a alla x elevato ancora alla t Le proprietà delle potenze ci dicono che Potenza di potenza Esponente A destra Per definizione B alla t deve fare c Quindi otteniamo Ma questo chi è? Questa uguaglianza cosa ci dice? Ci dice che a elevato a tx fa c Ma ci dice quindi che tx Non è altro che la potenza Che l'esponente al quale devo elevare a Per ottenere c Cioè logaritmo Cioè y Quindi y è uguale esattamente A tx Se andiamo a risostituire Chi sono y e x Otteniamo che Il logaritmo In base a C E' uguale Al logaritmo In base a Di b Per il logaritmo In base b Di c Ok? Io devo aver chiare Le proprietà delle potenze Poi il resto Me lo ricavo Cioè non è che Si me lo ricordo anche Però Se me lo ricavo è meglio Più volte me lo ricavo è meglio E come fosse un refresh Della memoria Ok? O Voglio mettere in luce Supponiamo di voler fare un altro Logalittmo in base a di un altro numero D D Va bene Applichiamo la stessa forma Questo è il logaritmo In base a D B Per il logaritmo In base b D E' uguale E' uguale E' uguale E' uguale Come se apposto di c E' uguale Dividiamo termine a termine Ovviamente supponiamo di poterlo fare Ma sostanzialmente Lo possiamo fare Se c e d Sono diversi da 1 Perché Il logaritmo Quando è che fa 0? Soltanto se l'argomento Se il numero di cui devo fare il logaritmo E' 1 Perché A Alla 0 Quanto fa? Qualcunque sia A Fa sempre 1 Quindi se c e d Sono diversi da 0 Io posso fare Questi numeri sono diversi da 0 E posso fare Il Il rapporto Ovviamente anche B deve essere diversi da 0 Quindi Andiamo a fare il rapporto E cosa scopriamo? Quando vado a fare il rapporto Questo e questo si semplifica Quindi quando faccio il rapporto di due logaritmi In qualunque base io lo faccia Il rapporto viene sempre lo stesso Cioè Se faccio il logaritmo di C Franto il logaritmo di B Se lo faccio in base A Viene questo risultato Se lo faccio in base B Viene qua Facciamo un esempio semplice Facciamo un esempio semplice Facciamo un esempio semplice Facciamo un esempio semplice Se vado a fare il logaritmo In base 2 di 1024 4 quanto fa? 8. Il logaritmo in base 2 di 32 fa invece? 5. Andiamo a fare il logaritmo in base 8. Il logaritmo in base 8 di 1024 quanto fa? Vediamo. Quando fai il logaritmo in base 8 di 2? Il logaritmo in base 2 di 8 fa 3. Quindi il logaritmo in base 8 di 2 fa? 1 terzo. Quindi questo qui fa? 10 terzi. Se io faccio, guardate, se qua ci metto A che scoprite che il logaritmo in base A di B e il logaritmo in base B di A, il prodotto deve fare il logaritmo in base A di A, ma siccome A alla 1 fa A, deve fare 1. Quindi da quella formula che abbiamo trovato prima segue anche che se io faccio, se io scambio A e B, il logaritmo si scambio con il suo reciproco. Adesso se vado a fare il logaritmo in base 8 di 32, qua no, è come se io facessi 8 alla 1 terzo fa 2, poi 2 alla 10 fa 1024, quindi prima eleva 1 terzo, poi eleva 10, 10 per 1 terzo fa 10 terzi. Sotto? Se avete capito è la stessa cosa. 5 terzo. Adesso se io vado a fare il rapporto tra il logaritmo in base 2 di 1024 e il logaritmo in base 2 di 32, quanto viene? 10 di su 5 fa 2. Se faccio il logaritmo in base 8 di 1024 e il logaritmo in base 8 di 32, quanto fai il rapporto? 10 terzi fratto 5 terzi fa sempre 2. Se faccio il logaritmo in base 10 di 1024 fratto il logaritmo in base 10 di 32, fa sempre sempre tutto. Stavolta il risultato con un mire intero, questo fa circa poco più di 3, questo fa poco più di 1,5, perché la radice di 10 fa 3,1 e qualcosa, 32 è 10 per 3,2, no, è poco più di 0,5. 10 fa 1 in base 10 fa 1, quindi 1,5 è qualcosa, sopra viene 3,1 è qualcosa, sopra mi rimane 3,3 qualcosa, un po' più di 3. Quando andate a fare il rapporto se andate a fare bene i conti con la calcolatrice, la calcolatrice vi dirà che è approssimativamente fra due conti con la realtà, esattamente, perché cambiando base qui i rapporti rimangono uguali, attenzione, non è che rimane uguale, ovviamente quando io cambio base i logaritmi si moltiplicano per la stessa costante, però ovviamente quando vado a fare i rapporti è la costante, quindi molto spesso sui libri quando trovate scritto logaritmo di c, logaritmo di a fratto logaritmo di b, non trovate indicata la base, ma in che base? Non fa niente, qualunque base, tanto di 3,4 viene sempre uguale, se io scrivo logaritmo 3 fratto logaritmo 2, logaritmo 3 fratto logaritmo 2 è circa 1,58, ma non c'è scritto la base, spesso, perché? Perché o lo faccio in base 10, o lo faccio in base e, o lo faccio in base 2, quello che mi pare, quel rapporto viene sempre la stessa cosa. Poi chi è questa famosa base E? Quella di Nepea. Beh, però Nepea è la notte, ti la lasciate in avventità, prima era sua, di chi è? E' un numero però come qua mi ricordo mai se è 18-81 ho un problema di disgrafia con la memoria dovrebbe essere 18 però le costo ben più diciamo dovrebbero essere corretti ci sono allora siamo usciti su questo argomento un po' di straforo però diciamo due parole poi ritorniamo su in matematica ci sono alcuni numeri che meritano una menzione speciale uno di questi è pi greco un altro è il numero pi greco beh guardate la matematica è affamata di simboli la matematica cioè normalmente se voi dovete scrivere un testo che caratteri usate che caratteri usate quando dovete scrivere in italiano che lettera usate? è la squale anche l'alfabeto giapponese quello cinese quello russo l'alfabeto latino latino la maggior parte del mondo scrive con l'alfabeto latino la maggior parte delle persone cioè usano più di un miliardo di persone che scrivono usando l'alfabeto cinese centinaia di milioni di persone che scrive usato l'alfabeto russo più di cento milioni di persone che usano i biogrammi non cinese ma giapponese però l'alfabeto latino e le cifre invece arabe chiaro i latini avevano altre cifre ora quante lettere ha l'alfabeto latino diciamo che nella versione inglese? 26 l'italiano che ne ha 21 in inglese ne ha 26 non è che soltanto in matematica abbiamo bisogno di molti simboli per esempio appena siamo andati a identificare le indeterminate abbiamo usato le lettere a, b, c, t, t, x, y, t fino adesso ci diamo mostre sulle lettere latine ma se io indico un angolo normalmente che lettere uso? A2 a 2 perchè se uso sempre le stesse lettere per troppe cose poi mi si confondono diciamo le idee mi si confondono e quindi ci viene comodo usare le lettere dell'alfabeto In questo caso, greco, perché usiamo le lettere dell'alfabeto greco secondo voi? Questa è un'altra piccola violenza fatta ai greci, loro sono sfortunati in matematica perché già le lettere usano per l'alfabeto, in matematica devono usare le stesse lettere che usano per l'alfabeto quindi sono esattamente nella condizione che loro usano sempre, loro non è che hanno A, B, C, cioè loro dovrebbero provare il contratto per usare quelle dell'alfabeto latino, qualcosa possono fare, però certamente quando scrivono il testo loro usano le lettere dell'alfabeto greco, perché usiamo quelle? perché sostanzialmente è un alfabeto greco classico, non lo parla più nessuno ma c'è il greco moderno che usa le stesse lettere però è parlato da scritto, usato da un numero ristretto di persone, quindi sostanzialmente va bene a saccheggiare queste lettere e proprio perché i simboli non sono tanti e quando usiamo la matematica abbiamo bisogno di molti simboli se voi andate a vedere la matematica se l'ha inventata, i simboli dei parti sordi, il simbolo di integrale, il simbolo di sommatoria è preso sempre da l'alfabeto greco, poi abbiamo il simbolo per esempio di derivata parziale a questa lettera qua che si chiama B e così via, cioè ne ha tanti gli simboli, il simbolo di unione, il simbolo di intersezione e così via, quindi se ne inventa quelle di solito però, ecco, tu te ne inventi, certo che le possibilità sono tante, però i principali quelli sono sempre le lettere siccome le lettere dell'alfabeto greco quante sono? 24 abbiamo 24 simboli al maiuscolo e 24 simboli al minuscolo, se andiamo a fare i conti, molti di questi coincidono come grafia con quelle latine e quindi potremo usare tra maiuscolo e minuscolo, poi vedremo una ventina la metà, diciamo che è la metà, 26 usiamo la latina, l'altro 24 usiamo altre, sono una cinquantina di simboli un simbolo su 50 non è poco, è il 2%, allora riservare, poi anche le lettere latine ne usiamo poche perché usiamo a, b, c, b, x, y, t, u, b, z, le prime le, si poi ci sono i, j, l, m, le usiamo per gli indici di sommatoria per altre cose, le usiamo però, quindi comunque riservare una lettera, cioè noi nel momento in cui pi greco è questo numero qua, fate attenzione che ci stanno i puntini, pi greco non è 3,416, non è 3,415, 900 eccetera, continuo entrambi sono numeri irrazionali, cioè queste cifre decimali, se le andiamo a continuare non sono periodiche quindi riservare un'intera lettera solo per pi greco è un po' limitante perché io poi quella lettera la posso usare più, si qualche volta si usa pi greco pure per indicare che ne so un piano oppure però è raro usare il pi greco per altre cose che non sia quel valore allora questo ragionamento a che cosa vi porta? questo numero sarà importante oppure no? se sacrificiamo un'intera, cioè una lettera solo per lui beh direi di sì poi il perché sarà importante si vedrà durante il corso di analisi 1 e di analisi 2 perché è importante oppure si vedrà durante il corso di analisi 1 perché se io faccio i logaritmi in base e, cioè il logaritmo naturale addirittura quando io scrivo logaritmo in base e di x non scrivo mai così, scriverò così logaritmo naturale di x ebbè avrò, potrò scrivere determinate, per esempio, approssimazioni per esempio se x in valore assoluto mettiamo così, scriviamo 1 più x e se x in valore assoluto è molto minore di 1 così, se no avrei dovuto scrivere x del tipo 1 più y x uguale 1 più y, dove y in valore assoluto è molto minore di 1 beh, posso scrivere che questo è uguale circa a y se voglio un'approssimazione migliore ci metto meno y quadro mezzi le altre approssimazioni proseguiranno se vi ricordate quando facevamo 1 fratto 1 più y x più y quadro, poi si continuava, se volevo un'approssimazione migliore qua ci doveva mettere y quadro e via se metto i puntini qua posso anche mettere uguale nel senso che se mi fermo devo mettere uguale circa perché è un'approssimazione ovviamente queste approssimazioni verranno dimostrate la loro validità verrà dimostrata durante il corso di analisi 1 chiaro? però osservate che qua logaritmo di 1 più y uguale a y meno a y quadro mezzi eccetera vale se il logaritmo è naturale se il logaritmo fosse in base 2 ci dovrebbe un fattore a moltiplicare chi sarebbe? il logaritmo in base 2 di e perché io l'abbiamo detto prima cambiando base viene tutto a moltiplicare chiaro? viene una costante fuori e questa costante se non è 1 perché me la devo portare presto? meglio che uso il logaritmo? naturale quindi non è che ne vero cioè no io sono un matematico importante fate quello che ti voglio bisogna usare e la torta lo sei tirato fuori e e no perché qua quando vado a fare questa approssimazione qua ci metto 1 cioè non ci saranno problemi no? è più semplice cioè la matematica tende a semplificare semplificare per quanto possibile semplificare per quanto possibile semplificare per quanto possibile anche se è una digressione è importante per sviluppare allora a cosa serve la matematica? anni fa qui è stato ospite un professore che che sa risolvere molto bene le equazioni differenziali applicate ai problemi di meccanica in particolare quando ci sono degli sviluppi asintotici da fare cioè delle approssimazioni pensatele come quelle approssimazioni là soltanto che invece di esserci dei numeri ci sono delle funzioni allora numericamente diciamo questi problemi oggigiorno si affrontano con i computer cioè tu hai sapete quelle belle figure con gli elementi finiti cioè in cui c'è tutta una bella struttura tu fai la deformazione il computer ti calcola tutto come si deforma la struttura ti fa pure i colori per farti capire dove ci sono gli stress più elevati tutte quelle belle cose tu metti i dati in programma il computer è più compiutita la risposta però la risposta che ottieni dipende dal modello che hai se il modello è corretto avrai una risposta corretta se il modello del tuo problema è stato modellizzato matematicamente male la risposta è acqua per esempio è di qualche giorno fa la notizia che si sono messi degli scienziati non so esattamente se fisici matematici ingegneri comunque un'università dell'Alaska ha rilasciato un report secondo il quale ieri era l'11 settembre l'edificio 7 che è crollato nel pomeriggio loro l'hanno fatto tutti i modelli e secondo loro non è possibile che questo sia crollato in base al fatto che ci stava l'incendio l'edificio dice che c'era l'incendio a un certo punto si sono indebolite le colonne erano in acciaio la struttura portante erano in acciaio e questo edificio è caduto come una pera segre loro hanno provato in tanti modi però allora non gli viene che questo sia compatibile con quello che si è visto cioè l'edificio è venuto giù proprio punto ora cosa dire di questo è una prova definitiva certo che no posso personalmente potrei avere dei dubbi come li hanno avuti loro però se tocca a te l'onere della prova dire che sia una prova definitiva è quantomeno azzardato perché basta dire ah no basta trovare una variabile che nel modello non ci è stata messa si dice rifai tutti i conti con quest'altra variabile che non hai considerato perde altre tre mesi i risultati vengono lo stesso poi ne trovo un'altra di variabile rifai tutti i conti è chiaro che non finiamo più bisogna stare molto attenti alcune quando perché la sostanzialmente non ci può essere una prova definitiva perché il fenomeno non è replicabile non è che io per vedere fare una prova definitiva e prendere un altro edificio facciamo cadere un edificio per vedere se la simulazione è corretta o no no? una prova dovrebbe essere fatta allora prendiamo un edificio analogo a quello prendiamo la simulazione che ha fatto l'università dell'Alaska ci facciamo un incendio fino a che cade e vediamo se l'università quello che ha detto l'università dell'Alaska si verifica se si verifica più o meno diciamo con un certo grado di esattezza quello che dice l'università dell'Alaska allora a quel punto dice si in un altro caso quello ha predetto perfettamente il fenomeno un caso simile e allora perché l'A non ci troviamo? e quanto costerebbe questa cosa? qualche miliardo di dollari? no beh qualche miliardo no ma centinaia di milioni di dollari si l'edificio era molto grande invece c'era un fenomeno che si era verificato per quale sono andati a chiedere consigli a questo professore qual era questo fenomeno? allora sapete che le navi oggi giorno sono molto grandi allora poi avete una nave da carico grossa immaginate una cosa di 50 metri 70 metri e larga 20 e su questa nave c'era da un certo punto una zona dove c'era un coperchio di metallo fatto a L allora che succedeva? i camion passavano su andavano sulla nave caricavano spostavano eccetera passavano qua sopra a volte passavano in qua a volte passavano in là però ci potevano passare è aggarrabile quella zona che cosa avevano scoperto? allora quelli ovviamente cosa volevano? non volevano che al passaggio di un camion cedesse e quindi il camion rimaneva incastrato sai quantità però avevano notato una cosa strana che quando passava il camion questo punto qui al convergenza interna dei lati della L si sollevava e allora avevano identificato un punto possibile di cedimento se la si comincia a fare una clicca si spacca poi col tempo può cedere allora hanno detto sono andati da questo professore andato e gli hanno chiesto guarda questo è qua noi abbiamo identificato questa debolezza abbiamo messo tutti i numeri dentro il nostro calcolatore abbiamo usato il programma che abbiamo chiaramente finito e quando siamo andati a fare i conti il calcolatore non ci dice che questo si alza il computer dice che la non si dovrebbe alzare però noi vediamo che si alza il conto lo siamo andati a fare proprio perché siamo preoccupati se lei ci studia questa cosa noi le diamo dei soldi allora lui tutto contento fa lo studio trova che effettivamente nel modello ci mancava un pezzo questo nell'equazione nell'approssimazione dell'equazione numerica arriva a vedere molto contento va da loro vedete vedete qua ci manca un pezzo questo è il pezzo che ho calcolato quindi rifate i conti con questo e vedete che questo si alza ah si bene bene grazie gli diamo i soldi rifanno i conti dopodiché continuano a usare il programma perché se ci pensate la cosa perfettamente senza allora non è che hanno protestato hanno detto tu hai fatto i conti male eccetera però attualmente continuano a usare il programma allora loro hanno rifatto i conti hanno fatto diciamo secondo il modello di Nazaroff hanno visto che effettivamente c'è un pezzo in più hanno visto che mettendo dentro quel pezzo quello là si alza però hanno fatto anche i conti che quel pezzo si alza è un tot che praticamente hanno fatto i conti con le sollecitazioni dei cambi che ci passano qua sopra quando soffrò si cambi che carico devo portare che sono sicuri che la la lastra diciamo di metallo non cederà mai una volta che sono sicuri che questa non cede e non comincia la cricca allora sto punto io posso pure ignorare sottoscurare l'errore quello che allora lo sapevano che c'era un errore Nazaroff gli ha trovato l'errore gli ha quantificato l'errore dopo di che allora non conviene andare a comprare un programma di calcolo migliore perchè magari devono spendere 300.000 euro per essere cosa perchè se lo devono far fare su un misurio mentre invece a Nazaroff gli hanno dato molto di meno però una volta che quello gli ha fatto i conti sanno che quell'errore per quello che gli serve è trasporto dopo di che a questo serve la matemata dopo di che Nazaroff ovviamente era tutto deluso perchè dicevo mi hanno pagato però non usano quello che gli ha fatto però loro gli dicono perchè devo andare a spendere tanti soldi che ne so 50.000 euro per comprare un programma nuovo quando so che è trascurabile se so che è trascurabile per me è trascurabile io ero solo preoccupato che non l'ho forse a questo serve la matematica la matematica serve a fare i conti in maniera più veloce a sapere se una cosa è trascurabile o no a fare ovviamente da un punto di vista i conti poi ovviamente qua non è che c'era solo matematica c'era anche Nazaroff la matematica doveva conoscere anche bene fisica perchè doveva capire il modello qual era e doveva capire come si traduceva la fisica nelle cose di matematica chiaro? quindi qua non è che c'era solo matematica però facciamo degli altri esempi vi ricordate l'esempio della media? primo giorno quell'esempio a cosa serviva? io devo fare una media se la faccio in quel modo la faccio più velocemente se per esempio uno dovesse contare i capelli che uno ha in testa e la persona non è calma perchè se no è facile come si fa? veramente come si mette un computer che fa l'immagine che fai i puntini lo rasi a zero che fai l'immagine con uno scanner con i puntini no come si fa? vedi quanti centimetri quadrati ci stanno poi prendi un centimetro quadrato dove la densità ti sembra media conti quanti puntini corrisponde rasi solo quel centimetro quadrato così la persona non neanche i conti puntini in quel centimetro quadrato moltiplici i centimetri quadrati se oggi dobbiamo scegliere tre rappresentanti tra di voi facciamo le lezioni siete 200 io ho i rappresentanti i candidati a, b e c si lascia sceglierne uno solo allora si mette uno la qui da fuori la scheda mi dice a io segno una poi b b b c a b c a a b b c e così via se faccio così poi alla fine quando arrivo alla fine qual è il problema? si magari si vede pure chi è chiaramente il vincitore ma se devo scrivere i risultati di quanti vode a pigliare che devo fare? ah devo ricontare allora per semplificare questo problema del riconteggio come posso fare? a a 5 a 10 metto una barra così quando devo ricontare dico ah una barra più uno fa 6 più facile no? e così via sono tutti ecco tutti possibili artifici di compito che vengono dall'amore questo è ok adesso torniamo ai locali torniamo voglio fare un po' di grafici voglio fare un po' di grafici noi conosciamo già il grafico per esempio di y uguale 2x più 1 prendiamo una vera qua ci mettiamo 1 qua ci mettiamo 3 uniamo e questa è y uguale 2x più 1 più 1 più 1 e 3 abbiamo detto che questa funzione era invertibile la funzione inversa qual'era? la funzione inversa se andate a fare il punto è y uguale 1 mezzo x meno 1 devo fare y meno 1 fratto 2 e poi scambiare la y con la x quindi qui ho meno 1 mezzo poi qua c'ho a1 vale 0 e devo 1 come si ottiene quella retta da questa? facendo una simmetria rispetto alla b semplice del primo e terzo quaderno cioè facendo quel discorso che vi ho spiegato l'altra volta cioè io immaginate che questa sia una pagina di quaderno la girate dall'altra parte e la guardate in trasparenza e quello che ottenete è così quindi questa pagina io la giro la guardo dall'altra parte però mettendo quest'asse come se fosse x e quello che vedo in trasparenza è esattamente questo poi abbiamo fatto una cosa simile con le funzioni con i polinomi di lato 2 per esempio se io prendo il polinomio y uguale x quadro meno 1 il grafico visto come funziona il suo grafico fa così qua ci stiamo a0 vale meno 1 e a1 vale 0 se vado a fare la funzione immersa e questa è invertibile solo se ne cancello metà cioè solo se la prendo per esempio sui positivi o sui negativi se la prendo definita solo sui positivi la funzione immersa viene così è y uguale a radice quadrata di x più 1 quella col più corrisponde a questo mezzo grafico qua che è stato girato quella col meno corrisponde all'altro mezzo grafico come vedete quella non era né iniettiva ma neanche subiettiva infatti questa qua si può definire qual è come si fa a definire una funzione dove ci sta una radice bisogna che il radicando sia maggiore o uguale a 0 quindi qua x deve essere maggiore o uguale di meno 1 perchè vedete a meno 1 la funzione esiste e vale 0 a meno 1 è importante se può calcolare ma questo non è tutto questo grafico qua girato è mezzo lo so perchè la funzione non era iniettiva e quindi l'abbiamo potuta non l'abbiamo potuta invertire così com'era l'abbiamo potuta modificare per poterla invertire vi ricordate il discorso dell'altro giorno adesso andiamo a vedere quali sono le funzioni corrispondenti alle potenze di località ora se io faccio una funzione corrispondente a una potenza lo lasciate qua per esempio se togliete il meno 1 mangiate questo di 1 questa qua è il grafico corrispondente a quadrato alla potenza di esponente 2 però nella quale faccio variare la base vi ricordate la potenza ha due argomenti base elevato a esponente se io invece tengo fissa la base faccio variare l'esponente faccio per esempio y uguale 2 alla x ottengo una funzione fatta così qua c'è sempre 1 per esempio a 1 1 la funzione deve valere 2 a 2 la funzione deve valere 4 e così via a 10 questa funzione varrà 24 questa funzione non si chiama potenza ma si chiama funzione esponenziale perché non è fissa fissa l'esponente fissa l'esponente e valia la base ma valia l'esponente quindi si chiama funzione esponenziale la più nota è quella in base e e alla x però anche 2 alla x va bene? sempre una funzione esponenziale e cambia soltanto base le proprietà sono simili le proprietà sono simili allora quali sono queste proprietà? innanzitutto il valore di una funzione esponenziale è sempre così vedete che la funzione intera della funzione sta sempre al di sopra y è maggiore di 0 il risultato della funzione esponenziale è sempre così positivo 2 alla 0 fa 1 2 alla 1 fa 2 2 alla meno 1 fa 1 mezzo 2 alla meno 2 fa 1 quarto ma sempre positivo e risultato in elevamento a potenza di 2 sia che l'esponente sia positivo sia che l'esponente sia negativo è sempre positivo tutte queste cose verranno ripetute durante il corso non è che però cominciamo a fissare le idee poi qual è l'altra proprietà fondamentale della funzione esponenziale? che ogni volta che io mi sposto di destra di un certo tot in questo caso di 1 la funzione esponenziale raddoppia in questo caso ogni volta che aumento l'argomento di 1 vedete 2 alla meno 1 a meno 1 la funzione vale un mezzo a 0 la funzione vale 1 a 1 la funzione vale 2 a 2 la funzione vale 4 a 3 la funzione vale 8 e così via c'è una quantità fissa se voi immaginate che questo sia una quantità di denaro e questo sia un tempo allora c'è un tempo fisso in questo caso 1 che è un tempo di raddoppiamento in cui il vostro capitale raddoppi perché ho usato questo esempio perché una crescita esponenziale sia anche il caso per esempio degli interessi composti è vero che attualmente gli interessi stanno a 0 però se vai a prendere i soldi per un debito per quanto piccoli ci stanno insomma si su un mutuo di una casa magari gli fanno un interesse abbastanza basso però se un'azienda vuole prendere a prestito un milione di euro perché deve fare diciamo un investimento dovrà pagare un interesse del 3, 5, 7, 9, 100 secondo me allora se un'azienda ha preso a prestito un milione di euro al tasso di interesse del 5% e pagherà soltanto alla fine quindi non paga non fa pagamenti intermedi in quanto tempo questo debito raddoppierà se ho un milione di euro di debito al 5% di interesse in quanto tempo questo debito raddoppierà circa non ci pensare proprio in 50 anni è diventato ben più di 8 milioni di euro circa 10 milioni più di 10 milioni di euro eh? no ecco allora una prima regola della matematica e non sparare numeri bambera allora se il tasso di interesse fosse dell'1% e non ci fosse composizione degli interessi cioè che cosa significa gli interessi composti? significa che dopo un anno io pago gli interessi non su 1 ma su 1,01 se fosse lineare se fosse lineare l'interesse la crescita del debito ogni anno pago l'1% quanto tempo ci mette a raddoppiare il debito? cominciate da questo esercizio semplice se l'interesse non fosse composto io ho 100 ogni anno accumulo 1 di interesse 100 anni 100 anni no? fino a qua ci siamo se l'interesse è composto ci mette di meno perché ovviamente io devo pagare l'interesse sull'interesse dopo un anno, dopo due anni i primi due anni di interesse quant'è questo di meno? beh, questo di meno è 70 anni circa è 100 per il logaritmo in base e di 2 perché? lo vedremo durante il corso logaritmo in base e di 2 fa circa 0,7 0,69 quasi 0,7 preciso quindi a raddoppiare ci mette 70 anni ora, se il tasso di interesse fosse il 2% secondo voi a raddoppiare quanto ci metterrebbe? quindi se era lineare da 100 anni ce ne metteva? 50 e se è composto? è uguale ci mette sempre la metà quindi da 70 ce ne mette? 35 allora, se il tasso di interesse è il 5% quando l'avremo ci mette a raddoppiare? 14 anni perché 70 diviso 5 circa poi ci sono delle approssimazioni quindi se ci mette a raddoppiare 14 anni che è successo? 14, 14, 14, in 42 anni il debito sarà diventato 8 milioni di euro raddoppia 3 volte perché i primi 14 anni raddoppia poi gli altri 14 anni raddoppia ma che cosa? non un'altra volta da 1 fa 2 da 2 fa 4 poi gli altri 14 anni da 4 fa 8 e poi se voglio considerare 50 anni come diceva lui ci mancano ancora 8 anni ne qua praticamente la circa quasi una volta 1 e 4 circa quindi dopo 50 anni saranno intorno a 11 milioni di euro poi bisogna fare i conti precisi chiaro qual'è la caratteristica di questa funzione esponenziale? quant'è che la crescita è preoccupante? cioè può diventare fuori controllo? più passa il tempo più sta roba cresce in una maniera incontrollabile perché siccome la raddoppia ogni volta facciamo anche un accenno oggi abbiamo iniziato un po' più tardi finiremo un po' più tardi però diciamo prima di fare pausa voglio fare un altro accenno un'altra piccola digressione prima di fare la digressione però voglio completare perché sennò poi rimangono le cose appese anzi qua non mi servono chi è la funzione immensa di questa? ok? in che base? 10 c'è scritto c'è scritto c'è scritto allora come fatti il logaritmo in base 2x basta girare con quel procedimento che avevamo detto prima quel grafico lato quindi vedete che sono tutte e due funzioni si dice crescente cioè più mi sposto verso destra più il valore è alto questa funzione è pure crescente quest'altra pure crescente notate quando una funzione è crescente l'immerso pure è crescente questa qui invece da zero in poi cresce prima di zero invece degresce allora vedete l'immersa noi abbiamo invertito solo questo pezzo qua che è la crescente e quindi l'immerso è crescente se avessi invertito l'altro pezzo che era decrescente l'immerso pure è una decrescente cominciate ad osservare qua cosa succede? qui la funzione ha valori maggiore di zero quindi il codominio è tutto r ma l'immagine cioè i punti che vengono colpiti sono solo quelli positivi quando vado a invertire per rendere invertibile devo rendere l'immagine uguale al codominio ma quando vado a scambiare il codominio mi diventa dominio quindi chi ha il dominio qui i numeri positivi come vedete i localizzati i numeri negativi in base a due perché non c'è nessun esponente al quale io possa elevare due e far uscire un numero neanche zero poi a1 ovviamente vale zero e cresce sempre però a differenza di questa mentre questa cresce sempre più velocemente questa qua al contrario cresce sempre più lentamente cresce però per crescere di 1 qua ci mette 1 cioè il localetto in base 2 di 2 fa 1 qua il localetto in base 2 di 1 fa 0 per crescere un altro 1 qua ci mette 2 perché devo arrivare a 4 localetto in base 2 di 4 fa 2 per crescere un altro 1 devo arrivare a 8 quindi stavolta è il contrario cioè per crescere di una quantità fissa additiva cioè ogni volta per crescere di 1 raddoppia il tempo che ci vuole esattamente in mezzo bene quindi questa cresce lentissimamente quando x è molto grande cresce poco 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 se vado a fare logaritmo in base 2 di 1 milione viene circa 20 se vado a fare logaritmo in base 2 di 2 milioni e non è arrivato neanche a 21 perché per arrivare a 21 se no è arrivato a 21 giusto? no non è arrivato a 21 perché logaritmo in base 2 di 1 milione è un po' meno di 20 quindi non è arrivato però è cresciuto solo di 1 per arrivare a 30 devo arrivare a logaritmo in base 2 di 1 miliardo e così circa ok detto questo andiamo andiamo a fare questa piccola dimensione allora quali sono tipicamente gli accrescimenti esponenziali in economia in economia quelli che capitalizzano gli interessi quando io sto dicendo che ho un interesse del tot per cento qual è la funzione interpolante che più o meno mi da l'andamento del capitale è 1 più tot diviso 100 alla x quindi se era il 5% è 1,05 elevato a x è chiaro che non è così violenta come 2 alla x però cresce allo stesso mosso semplicemente la scala di tempo è un po' più lunga ma il fenomeno di crescita esponenziale c'è sempre per cui a un certo punto la crescita diventa incontro tu prova ad avere un miliardo di debiti di interessi e il 5% su 50 milioni tutti questi fenomeni sono preoccupanti in sé perché certe cose possono andare fuori scala infatti facciamo un esempio sempre da un punto di vista economico come si misura il debito pubblico? che cos'è il debito pubblico? cos'è il debito pubblico? prima di parlare di debito che cos'è il PIL? e che significa? quant'è? il PIL italiano quant'è? avete sentito questa frase prodotto interno loro però quant'è? mi sapreste quantificare quant'è? un paio di miliardi eh? un paio di miliardi un paio di miliardi un paio di miliardi stai proprio 1.700 miliardi 1.700 miliardi 1.700 miliardi quello americano vediamo un po' se c'è un po' di logica quello italiano è 1.700 miliardi quello americano sarà di più di meno? quanto di più? un paio di miliardi a occhio e croce quanto può essere di più? quanti sono gli americani? diciamo gli americani e gli statunitense parliamo di America come continente quanti sono? 320 milioni gli italiani? 60,4 quindi quante volte è in più tra 5 e 6 un po' più di 5 mediamente chi ha un reddito più alto l'italiano o uno statunitente di quanto? il doppio? no diciamo una volta e mezza allora prendete una volta e mezza una volta e 6 quindi prendete moltiplicate 5,3 per 1,6 ottenete 8,9 prendete 1 prendete 1,7 moltiplicate per 9 ottenete 15,16 quindi il prodotto interno nord-americano sarà 15,16 mila 16 mila non lo so esattamente circa 10 volte poco meno di 10 volte quello italiano chiaro? questo è adesso bisogna fare una manovra finanziaria a fine anno oppure parlano di crescita come si misura come si misura la crescita in percentuale oh questo volevo sapere si misura in percentuale perché non c'è senso dire il mio prodotto interno nord-americano quest'anno cresce di 50 milioni un miliardo o due miliardi bisogna vedere rispetto al PIL perché è ovvio che se gli Stati Uniti sono 10 volte più grandi dell'Italia come PIL il prodotto interno nord-americano se cresce dalla stessa percentuale crescerà di 10 volte tanto in realtà in realtà la sta crescendo al 2 rotti per cento anni e qui sta crescendo se va bene per la fine anno sarà lo 0.1 o lo 0.2 se va bene perché potrebbe essere pure 0 o 0.0 comunque il concetto importante è che è in percentuale il debito pubblico italiano come si misura? in percentuale rispetto al PIL non ha senso dire il debito pubblico italiano è 100 1000 10.000 miliardi bisogna vedere rispetto al PIL perché il PIL che è una misura della tua capacità di produzione economica in un anno dice ti dirà le tue capacità di ripagare il debito se tu vai a fare un mutuo per la casa cosa vogliono sapere? quanto pigli di stipendio? perché se la rata del mutuo fa 600 euro e tu prendi 1000 euro di stipendio il mutuo non te lo fanno se fa 600 euro e tu prendi 2000 euro di stipendio e c'hai qualcosa a garantire ci pensano esatto se ce n'hai 3000 euro di stipendio ed è un lavoro che è abbastanza sicuro lo fanno subito perché? perché se ce n'hai 3000 euro 600 euro al mese li puoi mettere da parte ma se ce n'hai 1000 sembra strano che tu possa mettere 600 euro a mese da parte per pagare il mutuo chiaro? va in proporzione ma in percentuale no? e quindi quanto è il debito pubblico italiano? 130 132,8% cioè una volta virgola 3 quindi siamo a 2 oltre i 2000 miliardi o 2003 2002-2003 ok? ovviamente questa è una percentuale alta per cui chi ti presta i soldi se li presta a te va cercando un interesse più alto che se li presta per esempio a chi? alla Germania perché? quant'è il debito pubblico della Germania rispetto al PID della Germania? 60% però fate attenzione perché quello della Francia è circa il nostro è vero che è il 100% del PIL loro hanno 98-99 torna a 100 poi sta 98-99 all'anno scorso però loro hanno un 10-15% in più di PIL quindi se vai a fare i conti è più o meno uguale al nostro in assoluto ma il percentuale rispetto al PIL è di di meno se vai a vedere tra noi e la Francia c'è uno spread cioè l'interesse che ti chiedono molto consistente invece dalla Francia alla Germania è quasi un po' certamente certamente anche alla Francia chiederanno qualcosa di più della Germania ma a noi ci chiedono di più per certi versi questo è un controsenso perché uno già sta più in difficoltà però d'altro canto con il creditore si vuole cauterare da rischio la cosa ha degli aspetti fino a che gli interessi sono bassi come adesso è una cosa che uno mucugna ma può tollerare se gli interessi perché sono bassi gli interessi attualmente perché ci sta la banca centrale europea che ha stampato molto denaro quindi questa è una cosa che fa abbassare l'interesse ma non è che voglio fare tutta la teoria economica ci sta la tutta di economia apposta però se la differenza è tra la Germania paga zero o qualcosa in meno di zero addirittura il boom tedesco a 10 anni paga un interesse negativo quindi ci arrivate a capire che c'è qualcosa che non ma cioè se qualcuno in realtà molti sono disposti a prestare soldi alla Germania avendone 100.000 euro la Germania avendone tra 10 anni indietro 99.500 qualunque cervello credo che riesca a capire che c'è qualcosa che fondamentalmente in questo momento non va addirittura in questo momento essendo lo spread intorno a 150 questo significa 150 o 60 questo significa che anche in Italia c'è gente disposta a prestare 100.000 euro anzi no ho detto male che l'interesse è a meno 05 è all'anno quindi in 10 anni circa meno 5% tu ne presti 100 e tra 10 anni te ne dà 95 in Italia c'è gente disposta a prestare soldi allo Stato italiano per fortuna 100.000 euro e tra 10 anni di più 110 1% ok è un tasso di interesse molto basso ma se per esempio il tasso di interesse per qualche motivo andasse fuori controllo comincia a chiedere 3% all'anno alla Germania chiaro che c'è anche un'altra cosa di cui tenere goto cioè l'inflazione cioè bisogna vedere questi soldi che ci vuol però è chiaro che questi sono tutti fenomeni esponenziali se si passa al 7% l'anno se l'italiano passa al 7% l'anno non me lo trovano tra 10 anni circa 110.000 perché là il fatto che sia l'interesse sia composto l'ho trascurato perché l'effetto è minimo se passiamo invece al 7% la composizione non la posso più trascurare da 100.000 in 10 anni diventano 200.000 chiaro? quindi con le crescite esponenziali bisogna stare attenti perché a un certo punto le cose possono esplodere questo è un fatto che vale effetto con questo non voglio dire chi c'ha torto chi c'ha ragione se è una cosa giusta se è una cosa sbagliata questo è un altro discorso quando ieri mi pare ieri c'è stato un austriaco che ha detto le norme devono essere due perché noi non vogliamo pagare i debiti dell'Italia qualcuno che mi pare un italiano con cognome tedesco gli ha ricordato che l'Austria ha fatto dei voti 7 volte 2 volte quando non paghi i debiti l'Italia ha perso la seconda guerra mondiale tutti quelli che avevano soldi investiti in titoli pubblici e quale motivo il valore della lira prima della guerra aveva un valore dopo grazie all'inflazione dopo la guerra era praticamente era un centesimo di quello di Vitti quindi cosa che siccome il dito era a tasso fisso non era stata per nulla compensata nella teoria non è un default perché i debiti sono stati onorati però in pratica è come se lo fosse ci sono stati molti altri esempi di questo tipo per esempio una situazione di questo genere più recente ma ce ne stanno l'Argentina la Russia la Russia nel 98 nel 98 da un giorno all'altro il valore del rubro in una settimana è sceso circa a un decimo del precedente valore quindi se uno aveva uno stipendio che valeva mille dollari dopo una settimana il suo stipendio è uguale 100 quindi ci sono questi fenomeni estremi non dobbiamo andare nelle epoche geologiche quindi come vedete quando la crescita è esponenziale basta aumentare un po' il tasso di interesse che le cose possono diventare molto più lentamente se io parlo di un tasso di interesse del 7% a settimana e i 10 settimane sono rovinati cioè ho perso la metà è chiaro è 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 Grazie a tutti